insomma ma zucco io i miei clienti sono la procura dj di venezia adesso mi ricordo più che a 100 abiti dove si mi sembra emiliano la procura di venezia carabiniere qua e giudizi di la seconda e mi metto a sostenere la tesi complottista ma sei matto all'appeggio ti dico che non so rispondere certe cose anzi no scusa di parla così via e ha detto questo film è veramente fatto bene dobbiamo uscire per forza e facciamo almeno 80.000 copie stampiamo tutto spacchiamo tutto è colpa vostra come osate a noi a noi in fondo non dispiace di essere presi in giro perché noi siamo abitati tutti i drogati tutti i giovani tutti i drogati si vanno amare io non mi occupo tutto l'abbiamo capito ma stai attento ad andare in giro con quella gente in quelli in tutti i drogati in tutti i drogati chi sbaglia deve pagare uguale perché mi stupisco di lei come dire lei non capisce come un intelligente come lei che di colpo non si accorge ecco ce l'avevo detto hai visto aveva ragione calma zucco ha detto così invece vedete che vai cos'ha le droghe mica le droghe ti drogati ma io sono il garante non c'entro più niente adesso devi parlare con loro sono loro al governo io ho fatto già tanto per questa nazione non mi rompete i coglioni io devo dire che ho letto il rapporto warren a me secondo me sta in piedi perfettamente ciao a tutti perché non ci sono le stelle nel cielo ve lo spiego io fa con la faccina così no ve lo spiego io perché non ci sono le stelle perché non si doveva facciamo tutti subito così ci distingiamo già si dimostra meno come fai a dimostrarlo gna 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 cazzo glielo ho detto io ai fascistoni c'è scritto anche sul corriere della sera quindi sicuramente a me non risulta che ci sia niente di nuovo nel caso ci guarderò insomma adesso devo fare la visita dovevamo andare al lago di garda ma non sono sicuro meglio che stiamo a casa sta domenica e così se le successe le successe buone stupata la bombola del gara e no le vigiura l'ascensore bello guarda posso aprire la porta di casa con la mano posso aprire la macchina senza bisogno delle chiavi bravo pirla che ha un sindaco però resto 5 g magari stiamo attento e finisce lì mazzucco ha denunciato fermiamo le sceglie mi chiamo ha denunciato mazzucco quindi fermate tutto non si vola più in cielo ma è arrivato mazzucco ha fatto la denuncia fermate tutti i voli non si può più volare se la scienza ovviamente conferma che va tutto bene allora per me va bene fare sicuramente anche benvenga non vedo l'ora che arrivi questi qui sono le tasse noi no tasse eccetera 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 questo è un passaggio per le droghe più pesanti dobbiamo abolire la droga non si può sbavate che madonna è morto anche questo come dice i montanari fanno lì la brodazza e poi mette sbattere dentro qualche voglio se io mi metto dentro una cosa del genere non esco più fuori e dopo mi perdo tutti quelli che c'è poi ragazzi è o si torna adesso mi incazzo davvero è ho fatto così sennò vi chiudo tutto di nuovo vi chiudo i giardinetti andate più a giocare i garotti i cojon salvini taglia la spina staglia la spina sta gente che non ci porta nessuna parte a ecco questi sono contro il sistema taglia d'osso taglia d'osso I'm extremely convinced that we have been visited and have been visited parla così ma siete impazziti cosa avete fatto questo qui cosa avete fatto così ma questo com'è oh vedi quella roba stanna proprio forte saranno almeno 5.000 km a che croce abbiamo d'osso un entusiasmo una cosa che mi aveva preso addosso veramente di lavorare per sto governo no 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 ma io non posso fidarmi di te qui ci sono 300 scienziati che hanno fatto sto film mi devo fidare di loro non credo questi novax questa gente un po strana che dice queste cose non so se abbiano cambiato idea adesso non lo so ma dottor mazzucco ma non è che c'è un altro attentato un altro ero caduto a qualche parte per fare un'altra puntata perché ora non sappiamo più veramente ce l'abbiamo fatte proprio tutte queste puntate qui c'è qualcuno che spaccia per caso arrivo io e lei spaccia fa il bullo eccetera e vabbè I am really sorry I cannot speak I'm president of the united states because I have not born here this is really bad dobbiamo perdere cinque minuti a occuparci di questo somaro politico insomma ho questa cosa che non stiamo neanche a commentare non è vero perché veramente una scemenza tale tale eccetera eccetera oi maria oggi vengo a casa alle 11 e mezza e faccio il chiudo prima ci vediamo dopo ciao bella ci vediamo dopo ciao perché parte comincia a parlare non capisci più niente parte parte non lo fermi più ho capito cioè quella è una roba che va avanti così ho visto ho sentito una grande volta che è venuta forte subito dopo se hai visto questo caduto c'è il retro riflettori come mai non hai parlato mazzucco bravo complimenti come è stato bene come approfondire ma insomma sono due mesi che siamo qui non abbiamo un governo dai diamoci una mossa ostia energia bellini di qui da un torre vai a casa in giro eccetera 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 come è che adesso fai i gistroni di caffè adesso cominceremo a star più attenti perché bisogna vedere come è la politica e potrebbe fare quello devi chiedere a quello la che sta attaccato con quello la colore del pc ma non ce l'avevo fa perché quell'altro socialista quell'altro corchezzo di prego no c'è volevo dire in tenenza mazzucco non ne parlerà a che sa perché a pancia bassa a pancia bassa con un entusiasmo e ho fatto tutto bene che mi hanno ma tanto non hanno prove contro di me siamo arrivati a un punto adesso che veramente questa terra qui dobbiamo salvare assolutamente se no non succede casino qui di terrinte e vanno a casa allora fai vedere tutti voi c'è questa roba qui ma che schifo è io ho pagato un miliardo per questa roba qua pagato un miliardo per questa roba qui ma vi siete sicuri non è che vi hanno fregato ragazzi ma ecco hai visto questo qui quindi avevo ragione io adesso cosa dici tu fate quel cazzo che volete non ne possiamo più non si capisce niente aca e il governo dice una cosa così e io le santella dice un'altra cosa al contrario il sindaco daca dice una cosa daca vai del fiume l'altro sindaco dice una cosa daca fate quel cazzo che volete ma avete rotti andate fate 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 è un giornalista e allora lo scriva lo scriva che non si capisce un cazzo che ci mandano in giro e non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare ordine pubblico ci hanno detto ordine pubblico basta fate quello che vuole quindi vada faccia quello che vuole non ci rompetetevi le scatti no 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 è uscito di lì furibondo questi bastardi ma cazzo un grande balzo sono ricordi più le parole esatte verso il futuro certo non sapete l'emozione mi sto sedendo dove sono state sedute le chiappe ancora calde di aldrin fate la pace nel mondo non dovete più farvi del male con la guerra basta con la guerra a meretto si era prima in tonse sera dopo ha svelato eccetera eccetera perché ormai non detto che tutto fa solo quello che ci raccontano non avete ancora capito che ci prendono per il culo per tutto andiamo in discoteca a spruzzare lo spray e potrebbe essere i piani sono crollati uno sull'altro ha fatto questa cosa si ammazza ammazza quello ammazza negro ammazza cinese ammazza giapponese ammazza quale spero che si sia accolta l'ironia nel caso che non fosse sfuggita e poi c'è qualcuno che dice che cosa dici ma tu sei scemo a noi al tempo a tempo di seminario c'era pallavolo oppure facevi judo oppure facevi pedofilia potevi scegliere vabbè se il governo ha fatto così vuol dire va bene non sto preoccupa troppo capire invece no adesso abbiamo capito mazzucco ha gettato la maschera è uno che fa parte dell'establishment questo qua no bello interessante ben fatto è certo qui viene fuori una puntatona e 20 di luglio il cinquantesimo anniversario mazzucco che bello che bello sentiamo che ormai hanno fatto per 60 giorni invece di caso natismo non è vero attuale attuale portatemi solo un bullone di un ufo e io riconoscerò che esistono no che a parte che se io ti porto un bullone tutti inventi di tutto per negare che sia di un beccato mazzucco lo smentito che c'è una cosa conosciuta la sappiamo già da sempre come raccomando niente perché sai da prendere giro il mondo ci vai starà prima a scestare che mi interessa nessuno avuta via butta via mi sono giotto le coglioni questo non lo dovete mettere dentro per la settimana questo è vero che fai niente fa l'assustata allora rimorsi a me vigno for the time siamo già siamo andati sulla luna non dice no calma sulla luna non ci siamo andati gli spieghi perché gli islamici che ho buttato giù bin lader ha buttato giù tutti i gemelli dicino calma non è stato bin lader è come quando il papa si affaccia e dice non fate la guerra non fate la guerra rivolgo un appello perché tutti a chi lo rivolgi nome e cognome ma bocchi lo sa pubblicità l'entropia al caos e che bello che valore troppi e ma che che bello c'è ma a genova la palla di seno aveva venese ti appara di venese allora la legge dice che il vol non può andare in giro con il volto coperto è non si fa così è assolutamente dovete abituarvi alle nostre abitudini adesso spacchi scolpi su un ruti balcio di intanto di scambio con l'altro io ti porto i contanti tu però me dai questo mi dai le gomme dalla macchina io ti faccio ballare il pane dal mio fratello che bisogna infirma in internet state lontani sennò prendete il virus che ballerò cinque minuti i complotisti dicono che non ci vedono le stelle cretini il governo mi ha tassato che brutta cosa no c'è ragazze che sempre tornati che sempre cantano di che vedi che ti dici tutta fa però ci sono quelli che dicono che e l'altro ma no ma perché però ci sono quelli che dicono che ma no para pi para pa sentiamo gioco il nostro film è bello però cacchio che la ho io mano con le vedevo mi dicevo però cacchio quanto non ci sembra che cosa non capiscono di cosa parlate già visto gli ufo colori luci dimensioni questi sono stati gli anarchici questi sono gli anarchici questo è chiaramente al lavoro degli anarchici si vede che sono gli anarchici no caro non è vero non è così ce l'ho fregato con suba la faccia un leggo così con razzo dietro per far capire che lui non scienziato niente non capisci niente non succederà ma siamo qua va bene ti sta distruggendo ma zucco ti sta facendo pezzi hai visto bravo si cazzo glielo hai detto finalmente ma zucco cazzo che figo che sei non credo in che senso scusi mi raccomando se ne vanno via e lanciamo purta via il menino inizio lascia perdere non funziona non ti preoccupare la stessa roba se lei non c'è posta perché non la caga a nessuno sì certo come no vicinanza con le famiglie certamente però avete visto tutti è la droga dove porta e faremo ci state portando indietro niente scusami io parlo tanto inglese sempre viaggiato in mondo non parla francese l'hanno bene che tu non è l'ho visto ieri in tepe l'emozione l'ho visto ieri in televisione ha detto signora in televisione un po difficile magari su youtube sì sì su youtube su quella cosa di tutti i sabati il mio marito lo guardiamo se assolutamente uscito dal nulla sono stupidaggini però fanno veramente piacere lo capisco benissimo